La cucina quotidiana, salve! Il risero ho fatto degli involtini di melanzana con il miglio condito con la zucchina. Mi è avanzato tutto questo miglio. Stasera ci voglio provare a fare delle crocchette. Ingredienti. Miglio già cotto e condito. Ci metterò per farle stare insieme, le crocchette invece dell'uovo, ci metto la farina di ceci che aiuta a tenere insieme tutto questo malloppone. Poi lo passerò in una pastella fatta di farina di riso, farina di frumento, un pochino di noce moscata e visto il caldo una bella birra gelata, così me la bevo anch'io. E ci farò anche questi 3-4 fiorellini di zucchina, sempre con la pastella, sempre fritti. Proviamo a fare le polpette. Polpettine o crocchette di miglio. Metto un pochino di farina, 2,5 cucchiai. E adesso provo ad impastare il tutto. Cercando di ottenere una massa un pochino consistente, ci vuole ancora farina. Se non le polpette, una volta nell'olio, si sciogliono tutte, così. Forse era meglio un contenitore più contenitivo. Ecco qua le nostre crocchette. Sto cercando di dare una forma a questa cosa. Bene, questa è l'ultima. Stavo riflettendo che non so se le passerò nella pastella. Adesso vedo, ne provo una. Vediamo come viene. Non so, troppo convinto. L'importante è provarci. Ecco qua. Bene. Adesso lascio riposare un attimo. Preparo tutto il resto. Fiori di zucca, quindi lo aperti e lo lavati. Apriamo anche questo. Togliamo il pistillo dentro. Lo laviamo e l'asciughiamo. Pastella. Le farine. Farina di riso ce la metto perché ci fa tanto croccante la frittura. Così. E un bel goccio di birra. E giriamo. Ancora un pochino di birra. La pastella deve venire abbastanza liquida. Deve scorrere sopra la verdura. Vedo che è tanta. Per quattro fiori è tanta. Già che ci sono, farò anche qualche fettina di zucchina. La frittiamo insieme ai fiori. Ok, questo va bene, sì. Va bene, va bene. La metto in frigo. Preparo anche qualche zucchina a fettine. Sono andato nell'orto e invece della zucchina ho preso quattro frigitelli che sono belli, pronti, maturi e farò questi fritti. Li faccio fritti così senza niente, senza pastella, senza niente. Bisognerebbe aprirli, ma io ho l'idea che se li apro poi l'olio va dentro e non va bene. E quindi li lascio interi e li frigo interi. Li asciugo per bene, come asciugo i fiori. E intanto metto sull'olio. Tamponiamo per bene i fiori di zucca. Ed anche i friggitelli. Così li asciughiamo bene benino. L'olio ho messo su, olio di semi di arachide. Bene. Ormai ci dovremmo essere con l'olio. Sì. Manico frigge. Bene. E metto giù i friggitelli. Mentre quelli cuociano. Faccio a pezzi i fiori di zucca e li metto nella pastella. Nonostante tutto c'è andata l'acqua. Perché sento scoppiare. Ehi. Se ne è bucato uno, soffia come una ballena. Visto che c'è spazio, metto giù anche i fiori. Così. Bagniamo nella pastella. E giù dentro. Così. Ancora un altro, poi basta. Qui si sta rompendo questa. E allora tanto valeva tagliarli, se si rompono così. Friggitelli non l'ho mai fatti fritti. Fatti sempre nel forno. Sono peperoni dolci, tenerissimi. Quindi non ci vorrà tanto a cuocersi. Giù. I primi fiori cominciano ad essere pronti. Li togliamo. Ma ho l'impressione che anche i friggitelli siano pronti. Perché li vedo piuttosto morbidi. Questo lo tolgo. Via. Questo lo tolgo. Questo lo tolgo. Questo lo teniamo ancora. Forse era meno maturo. Questi li. Finiamo di mettere giù i fiori. E poi passiamo. Alle crocchette. Intanto saliamo quello che abbiamo tirato fuori. E facciamo acciutare per bene. E adesso la prova più difficile. Polpettini di miglio. Vediamo un po'. Ci reggono. Sì. Sembra di sì. Non li metto nella pastella. Poi. Ai, ai. Ho pure che si sciogliano. Proviamo a girare. Senza rompere niente. Si stanno dorando molto bene. Molto bene. Questa ancora un po' presto. Molto bene. Molto bene. Cominciamo a esserci. Sì. Così dovrebbe andare bene. Ormai ci siamo. Attiviamo fuori tutte. E mettiamo a scolare. Così. Benissimo. Inpegniamo il gas. Via la padella perché puzza. E lasciamo raffreddare. Mettiamo ad asciugare le crocchette su un pochino di carta da cucina. Ormai belle asciute. E le mettiamo qua insieme al resto del fritto. Ed eccolo qua il risultato. Friggitelli e fiori di zucca fritti con crocchette di miglio e zucchina. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie a tutti.